Insieme al marito, nel 2013 era stata condannata dal Tribunale di Pistoia a 10 anni di reclusione per l'accusa di aver violentato la figlia disabile nel 2007, quando la bimba aveva 9 anni. A gennaio scorso la donna, 52 anni, è stata invece assolta con formula piena dalla Corte d'Appello di Firenze. In primo grado sarebbero state equivocate le intercettazioni alla base della condanna. In questi anni la donna ha perso le tracce della figlia affidata ai servizi sociali nel 2013 ed è rimasta vedova. Il marito è morto per una leucemia alcuni mesi dopo la sentenza del Tribunale. E la storia raccontata oggi dal Corriere Fiorentino dando voce al desiderio della donna di poter riavere la figlia, oggi 22enne. Non avrò pace finché non potrò riabbracciarla, afferma. Nella motivazione della sentenza di assoluzione, il presidente della Corte scrive Le conversazioni intercettate dimostrano un contesto caratterizzato dalla cura della bambina e da abbracci e carezze che servivano a tranquillizzarla. La piccola non solo non era capace di muoversi in maniera autonoma o di comprendere le frasi più complesse, ma aveva difficoltà a riconoscere le espressioni del viso. Per questo dormiva spesso tra mamma e papà, veniva lavata e vestita come se fosse una bambina di pochi anni.